Eccoci alla review del Mavic Air 2, come vi avevo promesso arriverà anche un confronto col Mavic 2 Pro perché questo è il miglior drone che si può comprare in questo momento se si vuole anche iniziare nel mondo dei droni di fatto costa meno appunto dell'altra soluzione professionale ma ha delle prestazioni superiori lato batteria, lato range e ottime prestazioni fotografiche sensore da 48 megapixel e video in 4k a 60 fotogrammi al secondo l'altro si ferma a 30, questo video è in 4k a 30 fps per vedere in modo nativo la qualità delle riprese che vengono fatte appunto dal Mavic Air 2 inoltre approfondiamo anche il nuovo radiocomando che è più grande, ha una portata nettamente superiore una batteria maggiorata e però ha meno ingombro di fatto ed è più facile da portare avendo con sé anche maggiore comodità prima di iniziare ti invito come sempre a lasciare un like, iscriviti al canale e non perdervi i prossimi video e se ci sono delle domande come sempre giù nei commenti o mi puoi scrivere su Instagram, trovi il link in descrizione in descrizione ci sono anche tutti i link per l'acquisto a prezzo in offerta del Mavic Air 2 normale o Fly More Combo e come vi ho detto nel video di unboxing ovviamente preferisco sempre di gran lunga la Fly More Combo in quanto è un kit completo e una volta comprato quello non bisogna spendere nient'altro in accessori detto questo partiamo e cominciamo a ragionare sulle caratteristiche del Mavic Air 2 ah comunque in descrizione c'è la recensione completa scritta su techstart.it quindi per tutti i dati tecnici trovi direttamente i riferimenti lì ecco il Mavic Air 2, è giusto per avere un'idea lo approfondiamo come detto il Mavic 2 Pro che sembra gigantesco di fatto ma sono entrambi estremamente compatti qui c'è l'ingombro tra virgolette del nuovo radiocomando e abbiamo un drone che rinchiuso occupa 18 cm x 9,7 x 8,4 mentre aperto e si apre in modo molto semplice come abbiamo visto sulla serie Mavic su tutti i modelli e arriva da aperto ad arrivare a 18 cm x 25 x 7,7 batteria che si può staccare e riattaccare e andiamo a ragionare su quello che riguarda l'utilizzo e la presenza dei sensori a bordo questo drone è anche protetto mentre si utilizza in quanto ha i sensori nella parte inferiore assieme ad una luce che si può attivare con un pulsante del telecomando o automaticamente sensori per il landing automatico quindi l'atterraggio senza problemi sensori posteriori per evitare gli ostacoli e anche ovviamente nella parte frontale quindi l'unico lato che non è coperto è quello laterale ha un sensore da 48 megapixel che abbiamo visto nel dettaglio e che gli permette di registrare come vi ho detto a 4k 60 fotogrammi al secondo questo significa anche se facciamo filmati a 30 fotogrammi vi faccio vedere una clip di esempio possiamo rallentare due volte ma in termini di rallentamento bisogna dire che si possono fare video slow motion e c'è la sezione dedicata sull'app che andiamo a vedere per arrivare fino a 240 fotogrammi al secondo in full hd questo è un altro dato da primo della classe il drone è estremamente stabile aggancia i satelliti quando viene utilizzato e questo gli permette anche di tornare automaticamente al punto di partenza nel caso si perde il segnale o ci siano problemi di qualsiasi tipo a bordo inoltre abbiamo una memoria da 8 gigabyte che possiamo utilizzare se ci dimentichiamo la micro sd che possiamo inserire come sempre e portarla sempre con noi oltre a questo abbiamo in ultimo un sistema di stabilizzazione che anche con vento molto forte o al massimo della velocità che in modalità sport è di 68 km ore circa ci permette di avere delle riprese sempre estremamente stabili al pilota quindi a noi rimane solo l'onere di andare a pilotare al meglio e gestire come vogliamo appunto la ripresa abbiamo anche dei programmi automatici ma andiamo a vedere direttamente in fase di utilizzo sull'applicazione e appunto sul radiocomando radiocomando di fatto rinnovato e questo qui rispetto a tutti i precedenti secondo me è una spanna sopra in quanto abbiamo nella parte inferiore la possibilità di alloggiare gli stick e questo anche l'avevamo visto in precedenza che sono leggermente più lunghi comunque comodi da utilizzare arriva l'USB di tipo C quindi estrema comodità nel ricaricare in modo semplice abbiamo il commutatore tra modalità normale sport e tripod normale a velocità limitata con sensori attivi con la sport andiamo a usare al massimo i motori del drone fino a 68 km orari come vi ho detto e a disabilitare i sensori quindi quando utilizziamo questa modalità di fatto dobbiamo stare attenti a non incontrare ostacoli mentre in tripod abbiamo una ripresa estremamente stabile con movimenti del drone che sono estremamente contenuti pulsante per tornare a casa basta premerlo e il drone torna automaticamente al punto di partenza quello di accensione qui cambiamo modalità tra foto e video usiamo gli stick per pilotare il drone e qui col pulsante funzioni ad esempio possiamo gestire la possibilità di centrare il gimbal oppure di accendere e spienire la luce che abbiamo visto nella parte posteriore abbiamo la rotella per inclinare la telecamera e il pulsante per scattare foto o iniziare a riprendere video la novità effettiva sta anche nel tipo di aggancio perché io posso andare ad aprirlo e ho un sistema a molla per adattare anche quasi effettivamente un tablet inoltre è molto più comodo il sistema di aggancio dello smartphone perché qui sotto abbiamo il cavo già inserito compatibile ovviamente con micro usb usb c e lightning quindi vado ad aprire e devo solo poi agganciare il mio telefono ed eccoci dare avanti al radio comando con l'applicazione avviata e quello che vede di fatto il drone come vi ho detto con la rotella posteriore posso gestire l'inclinazione del gimbal e questo mi permette di adattare al meglio la ripresa che vado a fare per far avvenire il collegamento basta accendere il drone e accendere il radio comando dopo aver collegato lo smartphone avviare DJI Fly che è l'applicazione dedicata e di fatto poteva essere una limitazione ma è stata aggiornata appunto per il Mavic Air 2 e adesso ho un sacco di possibilità creative opzioni che prima non c'erano in quanto era solo per il Mavic Mini di cui vi lascio tra l'altro anche i link nelle schede perché abbiamo visto anche quello in fase di recensione posso passare da modalità foto a modalità video e gestire la parte di scatto automatico quindi far decidere al sensore come deve scattare oppure prendere il controllo e decidere ad esempio io qui ho i settaggi per le foto in notturna vi faccio vedere anche un hyperlapse apposito relativamente alla qualità che si può avere con questo drone anche di notte e andare a gestire l'ISO e l'otturatore il diaframma è sempre a 2.8 e è costante sulle modalità questo drone ci permette davvero di avere un sacco di scelte il succo molto semplicemente è che chiunque può utilizzarlo il drone in fase di decollo è stabilissimo aggancia i satelliti e rimane esattamente fermo dove si trova anche con vento forte sulla modalità possiamo scegliere il tipo di scatto da 12 megapixel, da 48 megapixel ci basta selezionare la modalità e automaticamente viene il passaggio a quella modalità foto smart che effettivamente permettono di riconoscere la scena adattare automaticamente i parametri di scatto quindi magari dei soggetti in movimento oppure dei bei panorami il bracketing che permette di fare foto HDR poi fondendole magari un'applicazione o un programma dedicato a 3 o 5 scatti fare una raffica quindi scattare più foto consecutivamente oppure fare uno scatto a tempo quindi una sorta di autoscatto inoltre abbiamo il quickshot che si attiva quando andiamo a decollare e permette di fare le riprese standard che conosciamo quando utilizziamo drone DJI quindi drone che si allontana semplicemente o si allontana verso l'alto possiamo utilizzare anche la modalità video con la possibilità di andare a 4k 60 fotogrammi al secondo come vediamo le riprese che ho fatto hanno sia i 30 fotogrammi sia i 60 fotogrammi rallentati per farvi vedere quella 60 come è possibile rallentare di una sola volta di fatto quindi andare alla metà della velocità una clip girata appunto con la massima prestazione possibile con questo sensore abbiamo anche i video in HDR che permettono di avere una gamma dinamica migliore nelle situazioni con ampio contrasto e la possibilità di fare slow motion quindi come ho detto in full HD fino a 240 fotogrammi al secondo inoltre una delle funzionalità che preferisco è quella dell'hyperlapse che come ci dice ogni volta c'è la guida apposita quindi per questo vi dico che anche chi inizia in questo momento con i droni può imparare facilmente a pilotare un drone di questo tipo comunque impostiamo i parametri di scatto delle varie foto che compongono il timelapse appunto l'hyperlapse quindi con movimento e dovremo solamente poi premere play in questo caso il pulsante per cominciare a riprendere e aspettare che il drone faccia tutto il filmato e faccia anche la fusione dei fotogrammi per avere la clip definitiva vi ho fatto vedere direttamente degli esempi per farvi capire bene ma basta capire che vado qui sotto a settare non so, 4 secondi tra una foto e l'altra quanto deve durare il mio video e che velocità massima può raggiungere il drone in fase di movimento le opzioni disponibili in questo caso possono variare perché posso decidere di pilotare liberamente il drone girare attorno ad un punto di interesse particolare seguire una direzione e impostare un percorso in ultimo c'è anche, quando non in volo comunque c'è la modalità panorama che permette di fare foto panoramiche quindi con più scatti e fare una panoramica generale di tutto quello che è il paesaggio davanti a noi sempre ad alta risoluzione la cosa principale è che tutto è a portata di mano e sono le prestazioni di questo Mavic Air 2 perché i dati parlano effettivamente di 10 km di portata 34 minuti di volo per ogni singola batteria che tra l'altro è molto compatta come abbiamo visto e di fatto nelle riprese che ho fatto nelle prove che abbiamo visto anche sul profilo Instagram vi lascio come detto il link in descrizione il drone è arrivato tranquillamente alla quasi mezz'ora di utilizzo anche spremuto in modalità sport ed è riuscito anche ad arrivare più lontano diciamo in un test di segnale rispetto al Mavic 2 Pro con una stabilità assoluta di segnale quindi senza avere nessun tipo di lag e senza avere nessun tipo di limitazione non bisogna arrivare a 10 km chiaramente non c'è mai questa necessità ma la cosa importante è che questo range aggiuntivo ci permette di stare in sicurezza anche quando ci troviamo in aree con grosse interferenze o comunque aree che possono avere dei problemi in termini di qualità del segnale possiamo settare all'interno di applicazione come sempre distanza massima altitudine massima a che altezza bisogna fare il ritorno a casa il drone quando richiamato appunto col pulsante apposito o in caso di perdita di segnale si porta prima all'altitudine che io gli indico qui quindi 100 metri nel caso e poi comincia a tornare indietro se si trova di sotto se è più in alto di 100 metri rispetto al punto di partenza comincia da solo a tornare indietro abbiamo la rilevazione degli ostacoli e importantissimo l'APAS che è il pilotaggio assistito molto semplicemente con questa spunta abilitata il drone è in grado di andare ad evitare automaticamente gli ostacoli che ha davanti esempio trovandomi con un ostacolo direttamente davanti a me il drone anche se gli dirò sempre di andare dritto automaticamente si alzerà per esempio per passarci sopra un sistema davvero avanzato che gli permette al di là di questa situazione anche quando utilizza l'active track che funziona benissimo abbiamo visto e vediamo una prova quando utilizza modalità automatiche gli permette di andare a scansare ed evitare alberi o comunque ostacoli particolari che potrebbero essere effettivamente in collisione abbiamo la possibilità di utilizzare la luce ausiliaria come vi ho detto e settare i comandi come conosciamo all'interno dei droni DJI lasciate quelli standard dal mode 2 che funziona perfettamente con lo stick di sinistra gestite la rotazione oppure l'altitudine e con lo stick di destra andate avanti indietro a destra o a sinistra estremamente semplice da pilotare dopo 5 minuti si prende la mano possiamo settare i pulsanti come vi ho detto riprogrammarli quello di sinistra del tasto funzione e sul lato fotocamera possiamo andare a scattare anche foto in RAW inoltre possiamo scegliere il formato del video Movo MP4 e decidere l'8K se si tratta di andare a fare il filmato hyperlapse l'hyperlapse arriva fino a 8K è una novità anche in questo caso per avere una qualità davvero esagerata in termini di appunto hyperlapse inoltre possiamo avere l'istogramma sincronizzare automaticamente e gestire le griglie nonché anche dobbiamo andare a salvare i nostri file abbiamo 8K di memoria interna oppure possiamo inserire una microSD e gestire la cache inoltre possiamo vedere anche la qualità del segnale in ogni momento e poi ci sono le informazioni di funzionamento nell'applicazione tutto è a portata di mano posso anche premere su alcune parti per vedere la temperatura della batteria ad esempio quanto tempo di volo all'effettivo ho è tutto visibile in tempo reale e quindi qualsiasi tipo di problema io possa avere basta cliccare per andare a vedere anche dove mi trovo in termini di mappa la confezione che consiglio è come vi ho detto la Fly More Combo che contiene oltre al kit standard due batterie aggiuntive eliche di ricambio 8 in totale quindi altri due cambi completi caricatore multiplo questo che riguarda il caricatore principale i cavi e la possibilità di avere anche un kit completo direttamente ai DJI relativa ai filtri filtri ND che permettono di gestire al meglio l'esposizione soprattutto per il periodo che sta per arrivare relativamente all'abbondanza di luce comunque il periodo estivo e non solo inoltre è presente la borsa che griffata DJI Mavic è molto bella e simpatica effettivamente al tatto in termini di materiali è ottima per il trasporto del drone e può contenere tutto il kit il prezzo da affrontare in più è irrisorio rispetto a comprare chiaramente singolarmente ogni singolo accessorio vi ho fatto vedere tutto l'unboxing nel video precedente ve lo lascio nelle schede tutto quello di cui abbiamo parlato in soli 570 grammi di peso un ingombro estremamente contenuto drone compatissimo praticamente è un radiocomando che con gli stick riponibili si può inserire in tasca quasi oppure all'interno di qualsiasi borsa il Mavic Air 2 parte da 849 euro in versione standard e 1049 in versione combo in descrizione come sempre vi metto il link con le eventuali offerte e molto probabilmente già in sconto questo drone rispetto appunto al Mavic 2 Pro è una scelta molto più oculata costa anche molto meno l'unica cosa principale che analizzeremo bene è il sensore da un pollice che abbiamo a Nintendo del 2 Pro che può servire se siete professionisti e se vi serve in modo preciso quel tipo di funzionalità per qualsiasi altro utilizzo avremo una qualità eccezionale delle immagini lo abbiamo visto qualità ottima delle fotografie in un prodotto appunto molto più piccolo è soprattutto più facile da portare la cosa importante non è neanche il range di 10 km ma la stabilità del segnale andando anche molto lontano con tante interferenze con zone un po' complicate non c'è stata nessuna incertezza in termini di segnale video del drone questo ci permette di avere sempre il controllo e di volare in estrema sicurezza importantissimo dunque e per qualsiasi domanda come sempre ci sentiamo giù nei commenti oppure su Instagram al link che trovi in descrizione lascia un like al video come sempre se il video ti è piaciuto iscriviti al canale per non perderti i prossimi io come sempre vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video